Buonasera a tutti ragazzi, qui è Mr. Lob dal Minerva Studio e stasera parliamo dell'importanza dello studiare più generi quando si mixa. Allora, io dalla mia persona le esperienze, io sono un ingegnere specializzato nel genere urban, ok? Rap, trap, R&B, pop, eccetera, drill, bla 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 bla, tutto il resto. Benissimo. Però quando studio, io studio da tutti gli ingegneri, studio tutti i tipi di mix, tutte le varianti, tutti i generi che possono esserci. Perché? Perché principalmente per il fatto che se tu vedi un argomento, la voce, per esempio la voce, ok, la voce è trattata in un mix pop, trattata in un mix rock, trattata in un mix trap, trattata in un mix EDM. Tu lo stesso argomento lo prendi da angolazioni diverse e quindi hai uno spettro molto ampio su come trattare la voce. E quindi magari prendi una tecnica pop, la metti nel tuo bagaglio da ingegnere trap, rap, hip hop, quello che è. Perché no? Può starci. E man mano ti costruisci il tuo modo di fare, ok? E ci sono delle cose che io ho preso per esempio dal rock, alcuni compressori che ho preso dal rock, alcuni riverberi che ho preso dal pop, mie personali delle mie catene private che insegno ai miei studenti privati e sono varie. Magari arrangiamenti di sessione che ho preso dall'EDM, modi di masterizzare che ho preso dall'EDM. li ho adattati, li ho sperimentati e ho visto che effettivamente funzionavano. Altri che ho preso da ingegneri trap, ok? E quindi la ragione principale è che tu studiando più generi di mixaggio ti rendi conto come sono mondi totalmente diversi, cioè alla fine sono mondi diversi che però hanno dei denominatori in comune, ok? Quindi tu studiando generi diversi riesci a costruire il tuo personale workflow, il tuo personale metodo di lavoro che è quello che io cerco di farvi capire, e cioè che è chiaro che all'inizio dovete avere un mentore da cui studiare, dovete fare quello che fa lui, però dopo, con l'esperienza, iniziate a costruirvi il vostro personale metodo di lavoro. Bene, questo è un motivo. Secondo motivo, miei cari ragazzi, è che ormai la musica non è più settoriale. Non è più settoriale. Cioè, tu ti puoi trovare dei suoni in un beat trap decisamente jazz. E questo l'ho visto perché anche noi al Minerva stiamo facendo degli esperimenti di produzione che a presto, a breve, spero potrete, cioè stiamo facendo un progetto, ok? E anche noi stiamo sperimentando suoni diversi, cioè per dirvi magari metti un Rode che è un classico piano rock, lo metti in una produzione trap. Stanno uscendo tanti, sta ritornando la musica suonata, quindi non è più il settore, non è più io faccio trap. Ti impari quelle quattro cose, impari come si fa lo snare, impari come si comprime il kick, quelle quattro cose io posso mixare la trap. No. Proprio no. Ma proprio in enti. Perché è chiaro che se a te ti arriva in studio un pezzo trap che però ha tante fusion pop, che fai? Fai la cassa come la cassa trap? Fai la voce come la voce trap? O fai la voce come la voce pop? Oppure fai una voce trap che però ricorda il pop, quindi devi essere un po' un crossover. Capisci? Dove sta il gioco? Il gioco sta qua. Come fai ad acquisire questo? Devi studiare più generi. E per studiare intendo proprio vedere, anche se non mixi, ok? Anche se io ho mixato poche tracce pop nella mia vita, molte, molte poche. Però guardo tanti ingegneri mixare pop. Già guardando, qui si può fare tutto un discorso, che tra l'altro ho fatto un video sulla mente inconscia e inconscia, ok? Questo è importantissimo. Non è che per imparare devi per forza fare, cioè sì, devi fare, che si fissa e ripeti. Però anche guardare ti aiuta, tanto. Io guardo tanti ingegneri mixare generi diversissimi, ok? Quindi principalmente devi farlo per queste due cose. Uno, perché così sviluppi e crei pezzo per pezzo il tuo personale workflow. Seconda cosa importantissima è che la musica non è più settoriale. Cioè la musica non è più settoriale. Le produzioni stanno cominciando a diventare sempre più fusion. Chiamiamole così, sempre più che si parlano, si intercambiano i generi fra di loro, ok? Per cui è importantissimo, è importantissimo cominciare a studiare quantomeno anche altri generi, se vuoi diventare un ingegnere del suono con i cazzi. Bene, detto questo, anche per stasera è tutto. Fammi sapere se questo video ti è stato utile, fammelo sapere qui nei commenti. Magari, chissà, il tuo commento potrebbe essere oggetto di un mio prossimo video. Io sono il Mr. Lob, questa è Minerva Studio. Iscriviti al canale e aggiungi la campanellina. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Chiuso nel Minerva Studio Cucino sto mix, cucino sto beat C'è lo beat fra dei mutton Ti caccia la hit, ti caccia la hit